Ok, adesso vi faccio ascoltare un blues, sì ho scritto in realtà un pattern, l'ho ripetuto e ovviamente cambiando gli accordi abbiamo le nostre 12 misure, in effetti ne deriva un blues, un blues intero. Potremmo anche chiamarlo blues jazz 1.0, volendo. Ve lo faccio ascoltare lentamente, inizia a inlevare con un'acciaccatura. Ok, adesso mettete in pausa, vi inserisco lo spartito e lo vediamo a tempo. Mettete in pausa... Ok, eccoci con il nostro blues a tempo. Un, due, tre, quattro... Eh, buon divertimento! Vi ho messo un bel po' di esempi. Questo sì, è un vero e proprio blues. Poi potete divertirvi ad improvvisarci su con tutto il materiale che a questo punto avete a disposizione. Direi che a questo punto di materiale a disposizione ne avete tanto. E mancano ancora delle lezioni. Per oggi ci fermiamo qua, perché il tempo a disposizione non è infinito, poi nel caricamento dei filmati diventa veramente difficile. Che dire, spero che anche questa lezione vi sia piaciuta tanto, che vi divertiate tanto, perché ricordiamo sempre che il divertimento è la principale ragione per cui facciamo musica. E che la musica è una grande ricchezza per l'animo umano. Quindi, buon divertimento. Mi raccomando, studiate, 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 perché voglio che diventiate tutti delle bestie. Per qualsiasi dubbio o informazione, cliccate sul pulsantino Whatsapp e io sono a disposizione.